E va per il satirico momento, quello che tanti bambini e ragazzi aspettano con ansia, quasi maggiore dell'attesa della fine della scuola. In città è finalmente arrivato il Luna Park, e potranno andare a divertirsi e urlare come matti sulle tante giostre presenti. Tre di questi ragazzini hanno proprio l'anno di divertirsi particolarmente. Si chiamano Christian, Elena e Kevin. Seguiamoli e vediamo cosa combineranno. Tutti assieme, su quante giostre riusciranno ad andare e qual sarà stata la preferita? Ciao Elena, l'hai vista? Visto cosa? La ruota, io la vedo già da casa da quanto riguarda. No, non l'ho vista, ma dov'è Kevin? Arriva subito. Hai sentito che profumo di frittelle? Io ne voglio una da Nutella. Ma dai, non pensare alle frittelle ora. Prima dobbiamo andare su tutte le giostre. Ci ottengo, ecco Kevin. Ciao ragazzi, come va? Andiamo? Sapete che la ruota panoramica alta 45 metri e si vede tutta la città. Mia mamma c'è andata. Però non fa mica paura. La ruota panoramica alta 45 metri e si vede tutta la città. La ruota panoramica alta 45 metri e si vede tutta la città. La ruota panoramica alta 45 metri e si vede tutta la città. La ruota panoramica alta 45 metri e si vede tutta la città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ci mettiamo in piedi, alziamo le braccia, sarà come volare. Voi siete fuori, non ci pensa nemmeno, andateci voi. Avrei preferito sicuramente starvene sul divano a vedere un film che costituano atti. E vedere i pirati in tv e mangiare pop corn con la gatta in braccio. Grazie a tutti. 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 Guarda la, della giusta dei cavalli. Ci sono ai miei decciudi piccoli. Elena, c'è anche la mia vicina di casa. Ha fatto oggi sei anni. Allora potresti andarci pure tu. Fai meno lo spiritoso e vai a prendermi le frittelle. Nutella, tanta, forza andare. Non vale però, era buio, non si vedeva. Vabbè, ce la prendo e dai. Hai la che batte in testa però. Vabbè, ce la prendo e dai. 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 Mi hanno regalato dei gettoni per gli autosponti. Due, quattro, sei, otto, nove. Facciamo tre giri. Potremmo andarci anche in due. Elena, verresti con me? No, dai, Elena, vieni con me. Dai, vieni, hai gettoni. Fate una cosa. Voi frutti li andati insieme. Io i gettoni me li compro e vado da sola. Vediamo se riuscirete mai a prendermi. Vabbè. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pochissimo, dobbiamo farlo un sacco. Ma non si ferma mica mentre siamo a testa in giù. È impossibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.